arrestato a Genova Pasquale Bonavotta, ricercato, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità che rientra nel programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno. Bonavotta è stato arrestato al termine di indagini condotte dal ROS e dai comandi provinciali carabinieri di Vibo, Valencia e Genova, latitante ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di promotore della COSCA Bonavotta di Santonofrio, già quasi interamente smantellata in un'operazione contro l'Andrangheta che nel 2019 aveva portato all'arresto di 334 persone.